Allora, adesso è finito, ne ho fatto una marea, questo è tutto il residuo, ho riempito il secchiello, adesso spengo, dopodiché tolgo i residui, tolgo il succo, e poi molto semplicemente faccio sto lavoro qua, sgancio, tolgo questo pezzo, vedi che praticamente ci sono due cilindri, qui, ci sono due cilindri che girano, girano e praticamente tutto quello che passa lì in mezzo viene schiacciato, comunque tolgo i due cilindri, lavandino, tolgo questo, lavandino, si pulisce tutto sotto l'acqua, in un attimo, primo cilindro pulito, secondo cilindro quasi pulito, questo è tutto acciaio chirurgico, quindi non c'è bisogno neanche di, questo è un pochino più lunghetto, questo lavoro qua, perché devo usare un momentino lo spazzolino ma ci va 5 minuti a pulirlo, dopodiché monto tutto, e poi lo spazzolino ma ci va behövendo,BYE, cellule cilindro,